Io mi porto a casa sicurezza, leggerezza, sempre di fare le cose, mi porto quel passo nella luce di portare gli altri, anche per me il più importante era quel colombra, ha riunito tanti temi insieme, ho sempre evitato di espormi, anche se di nuovo si rinnova quello che sono una che apre delle strade e che faccio la differenza anche per gli altri e che trascino dietro di me anche a volte non mi accorgo. E tante volte sento che a volte non mi vengono questi aiuti al di fuori perché...